quando? oh, domani quando te ne porto? 200 o 300? 200, 300, 400 quando non vuoi? porto meno 150 ah, va bene non hai il fatto di quando guarda dai, insomma, non è mai una cosa, ma qualcuno vede non l'hai vedi? ah, vabbè, si ah, si, ok ah, 5, 5 5 va bene, ok forza, ricogliere, dai, ciao oh, si, vuole? si, va bene, vuole meglio ah, vabbè, vi preparo, vabbè prepara, si, che vuole meglio va bene ehi, allora, con le mie sorelle va bene anche si ascoltando, sulle 2 e mezza, viene il mio padre se ne mette uno e ti pare il suo poi, verso le 3, 3 e mezza, vengo io e ti faccio gli altri due va bene, il tuo papà glielo devo mettere? ah, il mio padre glielo deve mettere a me anche quello di mia sorelle lo dividi e lo metti di lato, lo stavore io 2 ok, grazie ok, grazie eh, chi? eh, prepara una droga rossa 2 eh sto arrivando qua, sono il mio padre va bene ciao ciao bene le due le mie cose mi ha bottiglio come voi se il mio padre mi ha fatto oggi le faccio un bottiglio o no? va bene, poi le ci mando io la città non devo preoccuparlo poi ci posso fare, vai ma lo fai ieri padre? ma lo hai chiamato dopo? ma lo posso dover toccare? eh mi hai chiamato cosa ieri fu? ah voce cercarli i clienti ah, vado cercarli i clienti ma lo ha perso sempre che tu hai? ah, non lo sce io che ci hanno cavato hanno cavato, hanno cavato il petto? Sì, sì. Sì, ma se non c'erano uno sotto a loro uno, io non contento dà che sogno tranquillo! Certo. Queste massimo c'erano una paella e 50, allora va, a vedere. Guarda, io... E mi ha detto una paella e 70. Sì. Avete sbagliato? Sì. Ho riferato qui, ma scusa. Ma perché davanti ce ne sono, scusate, davanti a una paella. E magari faccio l'altro, perché mi hai pensato, che ho avuto il mio, ma... Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, vai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.